L'ultima Napoli Magosi Sì mister, un punto fermo del nuovo Napoli si chiama Walter Mazzarri e non dire che ci giriamo intorno abbiamo visto la bella scenografia preparata per il rinnovo di Elinzon Cavani con la maglia fino al 2017 e ti chiedo quante possibilità abbiamo invece di vedere anche un Mazzarri magari con la maglia con il numero 2017 Allora, quest'anno pescetta, ho detto già all'inizio non me la fate più questa domanda ho detto i motivi per i quali non volevo essere a scadenza e pensiamo a questo di sicuro Mazzarri fino all'ultimo momento di quest'anno sarà concentrato a fare sì che il Napoli faccia il massimo il resto ci aggiorniamo a fine anno secondo me perché serve, ho visto già che questo discorso è servito anche nello spogliatore per i miei giocatori dopo tre anni che un allenatore ha, grazie a Dio un po' di fortuna, un po' per merito, avuto successo bisogna che trovi sempre nuovi stimoli per trasmettere ai giocatori questo credo sia il modo migliore per me e che poi faccia bene anche i giocatori stessi quindi non ne parliamo più per favore e vadano bene o male le cose fino a fine anno le donne le donne le donne le donne e buono io ho detto le donne e no, state scherzando voi non dite più una parola del genere sapete vogliamo ai cuccioli io ho detto le gomme tuffano gomme la scelta della sicurezza circunvalazione esterna Arzano Napoli la scelta della scelta la scelta della scelta le donne